Ok, sei nella prima lezione. Ti mostrerò 5 sequenze di passi. A, B, C, D ed E. Prima lentamente, poi un po' più velocemente ed infine tutto sulla musica per due volte. Immagino che tu sia già di fronte al tuo computer in piedi. Bene, allora copia esattamente ciò che sto per fare. Ok, cominciamo con il passo A. Lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ed ora un po' più velocemente. Bene, ora andiamo al passo B. lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un po' più rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, adesso andiamo al passo C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lentamente. Un po' più rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Passo D. Lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un po' più rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ora facciamo il passo E. Lentamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un po' più velocemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ed ora proviamo tutto sulla musica, ma non saremo soli, che entrino le Fever Girls. 1, 2, 3, let's go! Passo A. B. 1, 2, 5, 7, 8. E. E. 9, 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Qui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. E. 2, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11. Bene, hai imparato tutto, per essere sicuro di sì, riproviamo ancora una volta sulla musica, e 1, 2, 3, let's go! Passo A B G G B G E